C'è Ria, lei quindi è dell'idea che dopo come negli anni e nei secoli passati, dopo la peste arriva il rinascimento, lei ancora ha questa speranza? Bisogna svegliarsi però, bisogna velocizzare un po'. Senza la peste del 1348 a Firenze probabilmente non ci sarebbe stato non soltanto il Decamerone, ma anche quella straordinaria stagione a cui lei faceva riferimento che è il rinascimento. Ora, finché lo dico io, lascia il tempo che trova, nel libro cito Paolo Mieli che è uno storico importante, oltre che una grande firma del Corriere della Sera, che dice esattamente questo e spiega come in tutte le stagioni della storia dell'uomo, dopo un momento di crisi gravissima, c'è sempre una grande rifioritura. Il problema però, e su questo io sono totalmente d'accordo con lei, è che tu hai in Italia un sistema particolare di piccole e medie imprese che devi liberare. Su questo, mi scusi, noi siamo stati tutti quanto due mesi più o meno in quarantena, in lockdown, bloccati in casa. Bene, blocchiamo, lo dico nel libro, per due mesi la burocrazia. Cioè, sbloccare i cantieri non significa soltanto far lavorare la grandissima azienda che fa l'opera infrastrutturale gigantesca, ma significa far lavorare l'indotto delle piccole aziende, i piccoli fornitori, i ristoranti e i servizi che sono collegati a quell'opera. Sbloccare le grandi, piccole e medie opere serve. Io la seguo, però, il suo famoso piano shock, no? Adesso, poco tempo, credo tre settimane fa, è venuto qui Zingaretti. Alla mia domanda precisa, rifacendo riferimento al modello Genova, lui mi ha risposto, no, 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 no. Io temo che l'Italia non sia pronta, è un problema di una tangentopoli 2, c'è il rischio della corruzione. Quindi, alla velocità con cui si è risposto, Genova in un anno, poco più di un anno, è stato in grado l'Italia di fare qualcosa che era inammaginabile, impensabile. E allora se Zingaretti, capo del PD, mi risponde così, lei all'interno del governo ha un'altra idea, insomma, sto piano shock non parte mai. No, questa frase, questa trasmissione con Zingaretti me l'ero persa, l'avevo seguita sulle vicende della giustizia, ma mi ero perso Zingaretti, con la stima massima che ho verso Nicola, le dico che questa frase mi convince molto poco. Anzi, mi lasci dire, mi sembra quasi una frase grillina. Perché se noi non facciamo partire le infrastrutture, perché abbiamo paura del potenziale scandalo corruttivo, diciamola così, se ho capito bene, questa era la considerazione di Zingaretti, facciamo lo stesso ragionamento che ha fatto la Raggi quando ha detto no alle Olimpiadi perché c'è la corruzione. Allora, se vogliamo essere seri, dobbiamo dirci che a Genova le cose sono andate, lo ricordava lei, in un anno, e viva Salini, e viva Fincantieri, e viva il sindaco di Genova e tutti quelli che hanno dato una mano. Il governo e naturalmente il Presidente del Consiglio, eccetera. Poi hai avuto, risalendo negli anni, l'Expo, lei se lo ricorda, Milano 2015. Abbiamo fatto delle regole shock e Milano è stato un successo pazzesco e l'Expo ha trainato Milano. E prima Pompei con il generale Mistri, che adesso è il comandante generale dell'arma dei Carabinieri, e risalendo potrei arrivare fino al giubileo del 2000. Allora, questi grandi eventi non hanno avuto scandali, o se li hanno avuti, sono scandali molto piccoli. Allora, non diciamo che scatta Tangentopoli perché c'è la grande opera, diciamo che il rischio di Tangentopoli, io lo dico anche nel libro, è perché ci sono delle cose strane, per esempio intorno alle mascherine, per esempio intorno agli appalti assegnati in via diretta sullo scandalo, diciamo sulla gestione coronavirus. Preoccupiamoci di questo, se diciamo non ho le grandi opere, perché se no arriva la corruzione bisognerebbe chiedere scusa alla Raggi con questa filosofia. Io questa filosofia PD grillina non la posso condividere.